il collegio ragazzi non ci posso credere ce l'abbiamo fatta sono contento noi mo 2000 sub superati anch'io per la prima volta nella mia vita è un bel traguardo sto facendo bene lo dico nei numeri mamma partiamo da di marco segatori cos'è una vhs no no non dire malattia non dire malattia non dire malattia ti prego non dire malattia tipo dello spazio un animale malattia sessualmente lo sapevo di quale continente si trova a libano no sono curioso di africa di africa il continente africano americano lo sapevo che era l'africa lo sapevo lo sapevo che avrebbero detto a li conosco come le mie tasche sti fioi americano non avrei detto neanche sotto tortura come fa essere americano libano ma che porti in svizzera ma in svizzera che cosa è svizzera afghanistan afghanistan chi era mai buongiorno allegria allegria un ballerino un filosofo presentava tipo sanremo non so se lo fa ancora un vecchio ormai quindi penso sia morto signorino quello un walkman tipo un lettore dvd però dove ascolti solamente non c'è proprio un distacco vecchio open open o ben bellissima eccola latina no lei ho aperto così non c'entra non posso fare battute non posso fare battute a 15 anni non posso fare battute non posso fare battute non posso girala magari non si può chiudere queste cose qui toccano la cassetta c'era un giro hai visto e c'è mia di marco tardelli poi dopo marco tardelli ragazzi grande sportivo in cezione incredibile proprio lui vabbè dai ha 14 anni ragazzi ci sta ci sta ci sta ci sta quante volte l'italia ha vinto i mondiali di calcio in quali anni non troppe tre o quattro su svizzero posso giustificarmi così sono svizzero 1934 1938 il nostro 1982 2006 un mostro signori un applauso il 2006 la conoscono tutti è stata la nostra più grande vittoria le altre se ce ne sono state è stato culo anche senso è stato la libertà la libertà è strapparsi vestiti andare nudi in giro con una sigaretta nel culo e fumarla con l'anno questa è la libertà aspirare fumo dal culo mi chiamo mario drecca ho 14 anni e vengo da casa madame in provincia di roma no fa apposta dai sto facendo apposta non ci posso credere cos'è la mafia power tv la mafia di twitch sconfiggiamo un power sconfiggiamo potere televisione la mafia è la mafia che sta dietro potere televisione deve essere sconfitta power tv è inappropriato per questo dobbiamo abolire power tv generale l'isis viene qua a fare che ha detto no dai vaffanculo non ci posso credere a mafia e quando l'isis viene qui a bonfare i bombardamenti è una una persona bianca che prende in giro no 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 saltiamo saltiamo cos'è l'energia nucleare quelle che io sparo dal mio culo vecchio e mo mi fate tutte domande sulla cultura oh sei andatene a fare il cazzo del provino oi martina sai cosa ti aspetta ma che cazzo ti lamenti quali sono le province del molise ma il molise non esiste ma non esiste il molise questo è il mio eroe questo è il mio eroe grande 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 in quale emisfero ti trovi sboreale no boreale no boreale allora sboreale come ho detto io sboreale sta sopra come siamo quello di sotto ma tu sei sopra balneare balneare ma questo è wizard joe no 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 mondo 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 dove si trova attenzione dove si trova l'imene oh dove mi do rollo è l'imene non ho mai sentito il mio damia non so ci stiamo l'imene ricopre l'india e se tu ci metti un dito sangue ovunque india india insanguinata l'india è vergine l'india è vergine ma che cazzo dici che cosa vuol dire non posso dirlo la brexit la liberazione dell'italia da parte degli americani per il nazismo di italia nel 2001 nel 2001 so crollate torri ooooh ma nessuno sa ste cose no 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 guarda no 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 però l'imene ricopre l'india mi scrisse cos'è l'energia in tono a una scala musicale a e i o u no 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 lui l'ha visto l'anno scorso e l'ha proposto di nuovo quest'anno lei lei è un plagiatore di cazzi signore questo è un troll enorme questo è il troll totale ma cosa serio è l'arca costruita da Noè nel libro della Genesi posso fare una digressione e dico e affermo che come è possibile che la gente creda che i canguri abbiano saltato l'oceano per arrivare dove cazzo l'ha costruita cos'era in Mesopotamia dove cazzo l'ha costruita sta arca arrivati per volontà di Dio volando per l'oceano i canguri di merda adesso io mi chiedo cristiani come fate a credere a certe cose? quella barca lì serviva a lui per farsi un viaggio un viaggio un pino in bocca e si vola coca party sull'arca di Noè cosa significa l'espressione a cavallo donato non si guarda in bocca? vuol dire che donato non può guardarsi in bocca che vuol dire? ha donato donato la persona non può guardarsi in bocca? con quali stati confina l'Irlanda? l'Irlanda non è uno stato no e che è? un bordello gigante? l'Irlanda non è uno stato razzone non contraddica la 14enne per cortesia non hanno alcun diritto in Irlanda questo è quello che ha detto lei Russia Russia nuova zelanda 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 può essere amsterdam la russia e la nuova zelanda cristoforo colombo ditelo vi prego ditelo napoleone garibaldi ma perché garibaldi? un'altra da vinci si un'altra da vinci con il primo corpo che costruiva assassin creed lago e l'altro il coso volante andrò nell'isola che non c'è con mago merlino e il capitano uncino pensava che fossero gli africani no gli indiani d'america gli indiani d'america gli indiani pelle rossa cristoforo colombo il passato remoto del verbo espellere sai che qui? io espellissi tu espellisse no si egli espellesse noi espellessi pellellimo voi espellaste si espellarono in quale regione si trova Belluno? in Italia no 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 non è in Italia in Veneto infatti Veneto Veneto stato eh che cos'è uno spermatozoo? sborai nel buco del si nel buco del culo può anche può anche può anche può perché no? tipo un girino che va nel la gada e salta non so come si chiama e poi fa nascere il bambino nell'esofago nell'esofago ci può andare può andarci nell'esofago ci può andare nell'esofago ragazzi non che nasca il bambino dopo non 100% ma all'esofago ci può finire che io sappia che ha dipinto all'ultima cena? Gesù Cristo vi ricordate Gesù Cristo? Gesù fai lo spelling di precipitosamente eeeh eeeh mo call estranguete facci mamma eeeh c i p i s a m e n t eeeh no precisamente rs o musì precipitosamente ma dove è grande? che grande cosa? oi o grande è il mio scroto in questo momento dopo 8000 cazzo dei provini eeeh 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 eeeh